REVELIO L'EDIOTA ARCHOR REVELIO 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 Parla degli inferi e poi si dice qualcosa sul fatto che Bardolph sarà il prossimo ASSO! REVELIO REVELIO EXPEDIARNUS LUMOS REVELIO REVELIO LUMOS REVELIO 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 Reveglio! Non so se mi troverei bene in un posto piccolo come questo. I seguaci di Runrock stanno terrorizzando Upper Hogsfield. Non è giusto! Signora Beaumont, credo di avere notizie di suo fratello. Bardolph, dimmi che cosa sai su mio fratello. Temo si sia unito agli Ashwinder e non ha alcuna intenzione di tornare. Cosa? No, no, non può essere. Voleva solo dei consigli da loro. Tutto qui... Mi dispiace molto. Avrei voluto portare le notizie migliori. Le auguro ogni bene. Cos'altro avrei potuto fare? Oh, Bardolph! Bardolph! Mio amato fratello! Non ho potuto fare a meno di sentire. Ha menzionato i seguaci di Runrock? Sì. Perdonami, non me la pazzo. No... Perché? Ha detto che i seguaci dirà? Io non ho... Purtroppo... Non dovremmo vivere nel terrore. Bardolph, so che non mi avresti mai lasciata senza salutare. Vero? Qualche miglioramento coi seguaci di Runrock? Purtroppo no. Temo che mio fratello sarà solo uno dei tanti ad aver sofferto per mano loro quando se ne andranno. Se se ne andranno. Bardolph, so che non mi avresti mai lasciata senza salutare. Vero? Mai sottovalutare i seguaci di Runrock. Qualche miglioramento coi seguaci di Runrock? Purtroppo no. Temo che mio fratello sarà solo uno dei tanti ad aver sofferto per mano loro quando se ne andranno. Se se ne andranno. Sembra che la situazione stia peggiorando. Devo stare in guardia. E' un'umano in meno di cui preoccuparsi. E' un'umano in meno di cui preoccuparsi. Erano anni che non mangiavo così. Ivala. Aspetta un momento. No! Ivala. Asso. Le diote. Sono di cui preoccuparsi. Che arroganza. No. Sire qui è stata una bella. Asso. Le diote. Incento. Asso. Protego. Dovevi saperlo. Che avresti perso. Non avresti dovuto sfidarmi. Non avresti dovuto sfidarmi. Bardulf. So che non mi avresti mai lasciata senza salutare. Vero? Stai allerta sempre. I seguaci di Runrock sono imprevedibili e violenti. Bardulf. So che non mi avresti mai lasciata senza salutare. Vero? Sembra che la situazione stia peggiorando. Devo stare in guardia. Fa attenzione quando lasci il burgo. I seguaci di Runrock si sono stabiliti qui vicino. No. Dove. E poi. A presto. Reveglio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ma mi dispiacerebbe lavorare alla Gringot? Mi si addice! C'è qualcosa! Incentivo! Reveglio! Incentivo! Leveglio! Accio! Qua giù! Leveglio! Incentivo! Incendio! Leveglio! Con pace! Finché non si avrà ucciso! Accio! Reveglio! Perché tirarla per le lunghe? Un accampamento è andato, ne manca un altro! Intrusione! Accio! Incendio! Leveglio! Tira! Sarai liscia! Accio! Incentivo! Le diose! Arso! Uno mano in mezzo in scoparsi Che arroba Arso! Che riquetano tra messima idea Le diose! Arso! Incendio! Le diose! Incendio! Non avrò parte Incendio! Protego! Arso! Incendio! Le diose! Sono un cavo! Sono un cavo! Ah! Arso! Incendio! Le mani di Runrock sono sporche del tuo sangue! Entrambi gli accampamenti sono stati sgomberati Madame Beaumont ne sarà felice queste le d meno non avrò hai che Ak miedo ! A Reveglio! Sì, 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 sì. Repelio! Lumos! Deve essere stato abbandonato molto tempo fa. Repelio! Sì! 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 Sì!